Eccolo il cambiamento di cui tanto si è parlato in campagna elettorale, con la nuova amministrazione comunale guidata da Franco Micichè, che si fa notare anche al nord del capoluogo, dove comunque c'è tanto da lavorare, soprattutto a Fontanelle. La zona della quale ci occupiamo è finita da tempo nel dimenticatoio, come la Fontana, con annesso un grande antico abbeveratoio, che adesso è stata liberata dal degrado, grazie all'intervento del vice sindaco e assessore Aurelio Trupia. Qualcuno, a quanto pare, aveva segnalato al Comune, ma inutilmente, l'esistenza da quelle parti, lungo la via Unità d'Italia, della Fontana, molto simile a quella di Bonamorone, lasciata nel totale degrado. Adesso, possiamo dire, è arrivato il momento del riscatto per questo ancolo di periferia. La pulizia straordinaria serve intanto a rivitalizzare la via cittadina, sede di numerose attività commerciali. La strada è molto frequentata anche da chi deve raggiungere l'ospedale San Giovanni di Dio. Con la rimozione dell'ammasso di rifiuti e il decespogliamento, si dovrà adesso evitare che l'area si trasformi in un parcheggio. Dopo la bonifica, l'assessore Trupia e il sindaco Micichè di sicuro avranno in mente la soluzione da adottare per mantenere al riparo, anzitutto, la Fontana, magari con qualche intervento di restauro.